La Corte di Giustizia federale tedesca ha confermato la condanna all'ergastolo per Beate Scepe, componente della cellula neonazista underground nazionalsocialista, giudicata colpevole dell'omicidio di nove stranieri di origine turca e greca fra il 2000 e il 2006, i cosiddetti delitti del kebab, e nel 2007 di una poliziotta, oltre a una serie di attentati contro obiettivi multietnici e di rapine con cui i terroristi si finanziavano. I giudici hanno rigettato gli appelli presentati dalla donna e da altri componenti del gruppo, Ralf Wollembe, condannato a 10 anni, e Holger Gerlach, a 3 anni. A dicembre verrà esaminato quello di André Heminga. Sono stati giudicati tutti colpevoli nel luglio 2018 dal Tribunale di Monaco, dopo un maxiprocesso durato 5 anni e mezzo, con oltre 400 udienze, che ha ricostruito le azioni degli estremisti. Scepe è stata giudicata una delle menti del trio che guidava la cellula. Gli altri sono Uwe Bonhart e Uwe Muntlos, che si sono suicidati nel 2011 per sfuggire alla polizia dopo una rapina fallita. Scepe si è costituita nei due giorni successivi, dopo aver dato fuoco all'appartamento in cui viveva con gli altri due. A quel punto i delitti del gruppo sono venuti alla luce, dopo essere riuscito ad agire indisturbato dal 1997, motivo per cui la polizia è finita nella bufera, accusata di aver chiuso troppo spesso un occhio per razzismo. La domanda principale era se Scepe potesse essere condannata come complice pur non essendo stato provato che fosse sulle scene del crimine, dice la nostra inviata. La Corte di Giustizia federale ha risposto di sì. La conferma dell'ergastolo per grave colpevolezza implica che un rilascio dopo 15 anni sia ormai fuori discussione.